Noi abbiamo la posizione che è quella che è stata espressa da Luca Zaia, perché il problema poi si riversa anche sull'alto adriatico, noi come Lega abbiamo votato contro lo sblocca Italia o lo sblocca Trivelle, tanto per intenderci, votato nel 2014. Luca Zaia ha impugnato di fronte alla Corte Costituzionale questo provvedimento. Ma il Veneto fa parte di queste dieci regioni? Lo sblocca Italia incide anche per quanto riguarda l'alto adriatico, anche lì dovrebbero essere collocate alcune Trivelle, è un problema di merito e di metodo, non si può decidere sulla pelle dei territori e non si può decidere sulla pelle dei popoli, ha perfettamente ragione Emiliano quando dice alla fine che è il territorio, Emiliano è curioso, ha fatto il sindaco, vive il territorio e io credo che l'imposizione costante e continua da parte del governo centrale rispetto ai territori sul tema dell'ambiente, sul tema del turismo, io credo che sia profondamente inaccettabile. Questo è un rapporto, ma continuiamo a promuovere le singole regioni, rispetto però alla questione, ad avere fonti maggiori, io credo che bisogna trovare fonti alternative e non è certamente questa la soluzione. Dopodiché il problema però giustamente è stato anche toccato perché molte di queste Trivelle verranno collocate sul confine territoriale tra Italia e Croazia, serve anche una presa di posizione forte del nostro governo, non nei confronti dei territori ma nei confronti del sistema europeo, il quale deve ovviamente pianificare in modo diverso quanto sta accadendo. Perché dico questo, scusi? Perché la riforma costituzionale, e insisto, va esattamente nella direzione opposta. Il turismo o le politiche attive sul lavoro non possono essere materia di competenza esclusiva dello Stato, senza tenere in considerazione le sensibilità di territori diversi.